Aliprandi che era la giudice italiana a questa competizione molto particolare questo inizio con la fune che è una palletta e che lei poi prende perfettamente a un capo di modo che si distende Grazie 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 Che è un po' il responsabile Che veglia dall'altro tutto sia squadra che individuali che tutto quanto Mi aspettavo una condivisione di responsabilità me l'hai attribuita interamente No 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 assolutamente Ce la dividiamo l'importante è meglio tardi che mai Andiamo a rivedere allora la mitieda Probabilmente sarà lei ad andare a superare il 27.35 della NAR Che dice 27.45 non di molto ma comunque fa nettamente meglio di 4 decimi rispetto alla qualifica E adesso è il